Oggi nella presentazione del documento economico finanziario del 2016 finalmente abbiamo i dati che certificano il fallimento della politica economica di questo governo. Nel 2015 è aumentata la pressione fiscale rispetto al 2014, nel 2015 è aumentata la spesa pubblica rispetto al 2014, nel 2015 è aumentata la disoccupazione, ci sono dati negativi sulla disoccupazione nel primo trimestre del 2016, la disoccupazione giovanile alla fine di quest'anno dovrebbe arrivare al 40%, questo è il fallimento totale del Partito Democratico. Il Partito Democratico e il Presidente del Consiglio che attuano la ciliegina sulla torta, cioè la riforma costituzionale, portano con il referendum di ottobre, dove noi dovremmo dare assolutamente battaglia perché il tentativo è quello di portare i poteri e le decisioni che adesso sono nelle regioni e nei territori direttamente in capo allo Stato. È un ritorno alla prima Repubblica, un passo indietro di 40 anni e i danni di 40 anni fa li stiamo pagando oggi. Assistenzialismo, parassitismo, centralismo, debito pubblico, spesa pubblica incontrollata. Noi non vogliamo tornare indietro di 40 anni, vogliamo un paese snello, vogliamo un paese federalista, vogliamo un paese dove si abbassano le tasse con la flat tax, vogliamo meno spesa pubblica, vogliamo un paese dove le imprese, la piccola e media impresa non si è abbandonata, ma gli venga data la possibilità di crescere, di investire e di creare posti di lavoro nuovo. Vogliamo un paese senza partito democratico.